Morte mamma, 40 giorni a casa, 40 giorni di rigore, perché? Perché mamma ci resta una sola, papà possono essere due, è la legge che dice questa, della vita, non è così, non è così, cara piccola di più. Oh, Ciro, Guido, ora passate a fare un ospedale, si presentavano, a guaglione che va a porturire, si presentavano troppate, si appiccicavano, tre, vedi, però è che in mondo è in mondo, c'è sta questa cosa, ma non è detto che l'hai dato, ma vuoi portare la sua situazione?